Grazie a tutti. E ora c'è un video che introduce l'argomento, così poi cominciamo a discuterne insieme. Grazie a tutti. 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 Tutto è rimasto nel nome, io devo dire che all'inizio ho avuto bisogno di fare vari focus group sui diversi punti di intervento e il primo punto potete immaginare da cui siamo partiti era vogliamo cambiare nome, OGR, Officine Grandi Riparazioni, sembrava un po' effettivamente un nome chissà se appropriato per il nuovo edificio. In realtà dopo tanti ragionamenti e potete immaginare anche piogge di nomi in inglese di qualunque genere abbiamo deciso di mantenerlo perché un po' come hai detto l'idea era quella di mantenere il concetto dell'officina cioè di un qualcosa che facesse delle grandi riparazioni ma non più ferroviarie, grandi riparazioni nell'arte, nella cultura sociale, nel tech e dell'innovation. Io ricordo, lo dico visto la sede in cui siamo, che anche con il team di architetti siamo andati a recuperare nell'archivio del Poli delle tesi di inizio novecento che parlavano delle OGR perché, questo lo dico diciamo per chi poi magari è più appassionato del tema, io certamente mi sono appassionato dovendo poi non solo sostenendolo finanziariamente ma anche decidere le soluzioni, alcune delle soluzioni recuperate nella fase di ristrutturazione sono state quelle proprio dell'impianto originario, ad esempio nella gestione delle acque, era stata del tutto smantellata la gestione delle acque sia piovane sia reflue e questo aveva portato a grandi problemi nella gestione delle acque nell'edificio negli ultimi decenni fino all'abbandono. È stato ripristinato invece la gestione delle acque a colonna proprio leggendo i dettagli di alcuni vostri colleghi laureati all'inizio del novecento che descrivevano colonna per colonna come era fatto, quindi è stato anche un lavoro diciamo interessante da quel punto di vista. E se invece appunto arriviamo alla parola tech e nello specifico all'art technology che sono un po' due anime dell'OGR che ci sono fin dal primo momento, anche se forse l'area tech si è sviluppata di più nell'ultimo periodo, gioco forza quando avete finito proprio tutto il lavoro di recupero e in questo siete stati anche all'avanguardia perché art technology forse è un concetto di cui si dibatte pubblicamente, si è dibattuto moltissimo negli ultimi due anni ma è dall'inizio che l'OGR punta su questo. Sì, l'edificio è diviso in due grandi mani che come dicevo essendo una forma di H, una parte OGR Cult dove c'è appunto cultura, arte, innovazione, incontri, molti incontri anche organizzati diciamo sul modello un po' del public speaking e quindi in generale appunto con soggetti che propongono temi. L'altra parte invece si chiama OGR Tech ed è relativa diciamo a una parte più legata al mondo dell'innovation della tecnologia. Abbiamo adesso 14 programmi di accelerazione con 14 diversi soggetti, molti di questi acceleratori internazionali, plug and play, tech stars. Le tematiche sono le più disparate dalla smart city fino alla metaverse for finance passando per blockchain piuttosto che impatto sociale e uso dei big data per questo di cui parleremo dopo. Sì, la parte calta è stata per una questione anche proprio di cantiere inaugurata prima nel 17 a settembre e la parte invece tech luglio del giugno del 19. Quindi è stato un puzzle che si è andato componendo. Però è interessante capire come appunto, stiamo parlando luglio del 19, come avete subito abbinato queste due anime, questi due aspetti, forse oggi viene persino più semplice vederlo perché poi l'evoluzione è andata in quel senso ma nel 2019 non era così scontato. Sì, il ragionamento è nato partendo un po' anche da quelli che sono i campi di intervento della fondazione CRT che diciamo è poi l'azionista, il sostenitore anche in termini di funding del luogo. Cioè lavorare sul territorio proprio per quello che riguarda l'arte, la cultura da un lato, ma anche tutto quello che è lo sviluppo del territorio dal punto di vista di quelle frontiere che riguardano l'innovazione, la tecnologia. Quindi la tecnologia come soprattutto elemento direi abilitatore dell'innovazione. Naturalmente il tutto con uno sguardo particolare a quello che è sostenibilità e impatto perché comunque la fondazione è chiaramente un ente non profit e utilizza un patrimonio attraverso diciamo l'applicazione di criteri puramente profit. Io questo lo voglio sempre ricordare ma i ritorni dell'investimento vengono appunto utilizzati per sostenere questi campi. Nel mio immaginario fin da allora poi sostenuto ovviamente anche da coloro che nel team hanno ovviamente contribuito alla realizzazione, le OGR dovendo continuare ad essere un'officina avrebbero dovuto ospitare, di fatto ospitano, le frontiere più avanzate nei vari settori di cui la fondazione si occupa e quindi in qualche maniera anche essere un luogo di sperimentazione. Alla fine l'officina nell'immaginario di tutti è un luogo che riceve degli input da fuori, in qualche maniera l'ingloba deve riuscire ad aggiungere valore, però poi deve rilasciare in termini di output quello che realizza e quindi questa è stata un po' l'immagine e l'atteggiamento che abbiamo ottenuto nel andare a definire le varie aree e i contenuti dell'edificio. E da questa sperimentazione che continua immagine sia quotidiana, che cosa cominciate a vedere uscire? Allora innanzitutto prima abbiamo dovuto sviluppare con due identità ben chiare il tema da un lato della cultura e dell'arte e dall'altro quello della tecnologia e dell'innovazione. Dal punto di vista dell'arte devo dire che immediatamente sono state realizzate importanti partnership con istituzioni culturali sia del territorio nazionali ma molto internazionali. In questo momento c'è una mostra di Arthur J. Fanzi che vi invito a vedere. Ricordo che l'accesso alle OGR è assolutamente libero, soprattutto anche per quello che riguarda l'arte. Questo ci teniamo molto perché deve essere un avvicinamento senza barriere, anche per chi magari passando a curiosità di vedere che cos'è una mostra di arte contemporanea. Sembra strano ma non tutti hanno l'interesse o la volontà, magari è una curiosità che deve essere sviluppata. Oggi stiamo mettendo insieme le due parti e quindi questo termine art technology è nato quasi un po' per caso durante gli stati generali della cultura tenutesi a Torino quest'anno e quindi è stato un po' coniato questo neologismo legato proprio al fenomeno dell'art technology. Quindi mettere insieme i due aspetti. Da un lato nella nostra visione quotidiana vediamo che gli artisti, chiamiamoli così, hanno sempre più interesse a capire come la tecnologia, l'innovazione, possa essere per loro uno strumento attraverso il quale esprimere la propria creatività. Dall'altro, diciamo, gli scienziati, anche coloro che si occupano, come li chiamo io, di vari elementi, cioè chiamo scienziati perché non si tratta solo di start-up o acceleratori, ma anche naturalmente chi si occupa, ad esempio, di big data, molti dei quali naturalmente escono, collaborano anche con il Poli, vedono con maggiore interesse, probabilmente meno tabù, l'arte come uno strumento per esprimere i risultati di quello che fanno. Quindi, ad esempio, anche lavorando con Fondazione ISI, alcuni elementi sono stati, diciamo, un po' sviscerati, no? Rappresentare anche le onde cerebrali su particolari patologie in forma di linee colorate e dinamiche sono forme d'arte che, in qualche maniera, non solo vogliono dare il messaggio del progresso scientifico che attraverso gli algoritmi del big data si sviluppano, ma anche far sì che quei messaggi possano essere divulgati a una platea che va al di là, magari, di, appunto, ingegneri o persone addente. Ma c'è anche un po' un'empatia dell'algoritmo, secondo me. L'empatia dell'algoritmo, sì. Poi devo dire, oggi, lo dico, io ho grande interesse per, diciamo, il big data, qui c'è anche Ciro Cattuto, che è il direttore scientifico, vedo, del Fondazione ISI. Per me, soprattutto, è stato un interesse legato alla misurazione dell'impatto e all'interno delle OGR, insieme, abbiamo costituito il primo centro europeo che è un centro, diciamo, della data science o big data for social impact. Quindi avere un team di persone che lavorano con gli algoritmi, osservano le varie iniziative che, diciamo, o crearle ad hoc o analizzare l'impatto sociale che si dà atto, poi si pone in essere con determinate attività, devo dire, è un tema che, secondo me, rappresenta una frontiera fondamentale anche in questo campo, è un'opportunità enorme. Ora, come e quali strumenti? Lo vediamo tra poco. Come si coniuga, poi, tutto questo in un linguaggio contemporaneo che, peraltro, è in costante evoluzione, però prima a me piace questa idea che da questo connubio tra arte e tecnologi esce poi una parola che tu prima hai usato giustamente la parola tabù e, secondo me, è una parola che è diventata tabù per la nostra società contemporanea, che è politica e che, in realtà, invece, non è una parola tabù, è semplicemente quello che facciamo tutti i giorni, tutti noi, poi ci aspetteremmo che l'amministrazione applicasse anche esattamente queste tendenze e forse non è sempre così, ma quello è un pezzetto della politica. Poi la politica ha mille rami e mille applicazioni e, in questo connubio, secondo me, voi, chiamandolo social good, che è un'altra parola in inglese, ma che poi è politica, di fatto, cioè non è nulla di diverso, è politica ed è dichiaratamente politica. Questo mi fa molto piacere, in realtà, perché... E quindi mi piaceva capire esattamente come si muoveva questa anima. Diciamo, io ho avuto l'opportunità di fare, diciamo, il presidente dell'Associazione delle Fondazioni Europee a Bruxelles per un po' di tempo e, soprattutto, l'osservazione da quel punto di quella che è l'evoluzione della filantropia, chiamiamola così un termine che io, in alcuni casi, non amo molto, nel senso che la filantropia è molto importante, le erogazioni sono molto importanti, ma rappresentano uno degli aspetti con cui, diciamo, l'agire delle fondazioni, chiamiamoli di più enti non profit, hanno come una specie di toolbox, una scatola degli attrezzi e, a seconda di quello che occorre fare, si deve utilizzare lo strumento più adatto. Certamente oggi la filantropia è anche impact investing e anche, fino a qualche anno fa, venture philanthropy, cioè lo sviluppo anche di dinamiche di pianificazione di business finanziarie finalizzate a creare un impatto. E allora, se uno si guarda intorno, per carità, credo che ogni epoca storica abbia avuto i suoi, diciamo, i suoi problemi, no? Io, insomma, chi è vissuto in epoche passate, sicuramente ha avuto e ha sperimentato anche grandi, diciamo, questioni. Oggi noi viviamo nell'epoca in cui sicuramente produciamo ricchezza come mai prodotta in passato, quindi questo, nonostante poi parliamo sempre certamente di problemi legati alla ricchezza, però intanto ricordiamoci che rispetto a qualunque epoca storica passata noi produciamo una quantità di ricchezza mondiale. Il problema però è la concentrazione, come la ricchezza viene distribuita. Poi c'è il climate change, c'è tutto il fenomeno dell'epidemiologia, cioè quello che vedo è che queste, chiamiamole issue globali, sono davvero globali e viaggiano a una velocità come questo sì, nel passato non si era mai sperimentato, no? Credo che sul cambiamento climatico penso che nessuno abbia più dubbi. Anche sulla velocità, diciamo, purtroppo, con cui si sta muovendo. Però, ecco, questo richiede nuovi strumenti. Io credo molto, io ho una formazione finanziaria, credo molto che invece un approccio scientifico legato anche ad alcuni approcci, chiamiamoli data science o comunque big data, su questi fenomeni possa aiutare molto a razionalizzare, a produrre, diciamo, risultati meno bias, meno soggettivi, che, diciamo, creano una consapevolezza anche nel pubblico, e nella, chiamiamola così, nella massa, in senso numerico, più consapevole. Ed è per questo che l'innovazione, poi, per il social good, significa anche rendere più diffusi strumenti, ma soprattutto la narrativa con cui noi raccontiamo i risultati che vengono prodotti, ad un pubblico sempre più alto. Per questo l'arte, la cultura, ci aiuta in qualche maniera, e vedo che molti scienziati, anche molti ingegneri, in maniera anche sorprendente, si avvicinano sempre più anche a questi concetti, magari meno razionali, nel dover poi raccontare che cosa viene fatto e qual è l'utilità del loro lavoro. E davvero i big data applicati a questo concetto più di umanesimo, diciamo così, possono limitare il pregiudizio, contribuire a dare una visione più globale della vita del mondo? Io credo che, appunto, anche attraverso fenomeni come quello dell'art technology, possano far vedere ad un pubblico molto vasto, con maggior semplicità, ma con maggior rigore scientifico, però, perché molto spesso anche nella narrativa che ci circonda, e soprattutto nelle news, devo dire molto anche nel nostro paese, poco si sente parlare di numeri, anche quando vediamo rappresentanti della politica che parlano dell'economia, dicono sempre va meglio, va peggio, più o meno, ma, diciamo, sono concetti che anche in economia hanno poco significato. E quindi, in qualche maniera, credo che un approccio più rigoroso, pur raccontato in maniera semplice, aiuti a capire con rigore la serietà di alcune tematiche. Quello della distribuzione della ricchezza del climate change, ad esempio, sono due temi su cui, credo, lavoriamo molto. Devo dire anche Fondazione Isi, che, per chi non la conoscesse, è una fondazione qui a Torino, storica. Fondazione CRT è stata founder e funder di questa fondazione, che, diciamo, è a livelli internazionali tra le prime su queste tematiche. Stiamo lavorando molto anche su questo, non solo su questo. Nell'epidemiologia, ad esempio, durante la pandemia del Covid, molti rappresentanti della fondazione sono, per la prima volta, apparsi su news serali o su altro tipo di trasmissioni, molto, chiamiamole, nazionalpopolari, a spiegare come con il loro lavoro stessero monitorando l'andamento e la diffusione del virus. Di rivoluzione tecnologica, credo si sia parlato nel corso, addirittura forse degli ultimi decenni, spessissimo. Questa rivoluzione tecnologica di oggi, di adesso, cosa comporta? Ma, diciamo, innanzitutto ci pone davanti alcuni elementi sicuramente nuovi, e basti pensare solo al fenomeno dell'intelligenza artificiale, chiaramente, e tutto quello che è la gestione, poi, dei dati, che pone, anche qui di nuovo, quesiti in passato sicuramente non mai affrontati, per non parlare, poi, del metaverso, no? Adesso, noi, all'interno dell'OGR, abbiamo lanciato, devo dire, con molti piedi per terra, un acceleratore che è Metaverse for Finance, cioè andare ad analizzare come, in alcuni ambiti finanziari, soprattutto nel mondo delle start-up, ci sia un'evoluzione in questo senso. Devo dire che è un tema che, comunque, pone molte domande, e quindi, soprattutto, un'officina come l'OGR vuole avere il compito di analizzare, studiare, confrontarsi su questi temi per non subirli. In questi giorni, devo dire, il metaverso sta avendo, è sulle cronache, non, diciamo, positive, da un punto di vista, soprattutto, subisce le prime batoste, diciamo. Non so giudicare, anzi, poi, mi piacerebbe sentire anche la loro opinione, perché nel dialogo, anche, che si crea con molti, diciamo, anche studenti del Poli, è difficile capire se è una battuta d'arresto momentanea o se, invece, c'è un ripensamento. Certamente si capisce che ci si trova dinanzi a una possibile rivoluzione, anche della modalità, poi, sociale di vita e del modo in cui noi, come esseri umani, ci dovremmo porre nei confronti della realtà effettiva. Fino all'anno scorso, noi abbiamo avuto anche una, diciamo, un programma ad hoc con un operatore giapponese per aiutare, soprattutto, i bambini, dai tre, direi, fino ai nove anni, a capire la differenza tra la realtà virtuale e la realtà effettiva, attraverso schermi interattivi, attraverso disegni, da loro fatti che si trasformavano, poi, in immagini sullo schermo, con degli educatori che cercavano di insegnare dei concetti che, certamente, per me, ma credo anche per loro ancora, perlomeno, sono chiari, magari non per tutti, diciamo, ad alcune generazioni. Per chi nasce adesso, ci rendiamo conto, anche attraverso studi di carattere sociologico, per alcuni piccoli, diciamo, nuovi nati, la differenza tra il virtuale e l'effettivo, talvolta, anche nei processi educativi, comincia a essere molto spocato. Cioè, siamo oltre il nativo digitale, siamo passati a una generazione... Questo pone anche problemi nell'apprendimento, no? Sono certo che molti di voi avranno letto studi recenti per cui, effettivamente, la virtualità nell'educazione nei primi anni di vita sembra ridurre alcune facoltà cerebrali. Ecco, tutto questo noi dobbiamo, in qualche maniera, confrontarci, indagare e capire. Sul metaverso, io credo che sia uno stop momentaneo, se devo seguire il mio istinto. Un po' mi ricorda come, diciamo, alcune grandi rivoluzioni, come lo stesso mobile, no? Per cui, quando è nato, nessuno mai si sarebbe immaginato, anzi, c'erano i grandi sostenitori della supremazia della telefonia fissa, del fatto che, in realtà, nessuno mai nella vita si sarebbe sognato di girare con un telefono in tasca per farci mai che cosa. E quindi c'erano grandi studi su questo. In realtà, poi abbiamo visto, sul metaverso, devo dire, l'elemento aggiuntivo è questa opportunità, così ci dicono, di poter vivere quasi l'intera esistenza, da un evento culturale fino al rapporto con la banca, lo studio, teoricamente, senza mai muoversi da casa. Detto così fa paurissima. Detto così fa paura, soprattutto pensando al nostro ruolo e anche alla nostra, diciamo, natura di essere umani, comunque ancora, mi pare di poter dire, comunque sociali, no? Quindi questo, diciamo, va indagato, va capito e i fenomeni di questi giorni, diciamo, un po' ci dicono che non c'è poi così tanta certezza. Però forse perché noi, giustamente, perché viviamo l'evoluzione nel momento in cui accade, quindi non abbiamo ancora chiara la scena, forse lo stiamo vivendo ancora troppo in contrapposizione, il virtuale e il reale. In realtà, forse capiremo meglio il potenziale e l'utilizzo comune del virtuale, quindi persino del metaverso, quando ci verrà chiaro che non è un'alternativa alla vita, è un'esperienza. Sì, certo, questo è un'esperienza, sì. Però poi molte cose, diciamo, nell'esperienza vissuta modificano profondamente le abitudini. Non c'è dubbio che fenomeni come quello della pandemia completamente senza precedenti e la possibilità resa, fortunatamente, dalla tecnologia di poter continuare a svolgere alcune attività, però poi cambia profondamente alcuni processi. Parlando di arte o cultura, certamente le piattaforme come Netflix, unite a momenti come quello della pandemia, stanno rendendo le sale cinematografiche in una crisi mondiale mai vissuta prima. Per cui c'è già chi si domanda se tra 5 o 10 anni i cinema esisteranno ancora o saranno un fenomeno assolutamente di nicchia amatoriale, perché le persone preferiscono stare a casa. E man mano che la tecnologia rende l'esperienza vissuta, diciamo, singolarmente, stando a casa, sempre più reale, sempre più simile all'esperienza che fino ad oggi abbiamo fatto muovendoci fisicamente, credo che questi siano interrogativi che noi vogliamo capire, vogliamo governare e vogliamo condividere anche per capire come muovere. Questi sono anche i grandi interrogativi che secondo me dovrebbe avere oggi la classe politica, perlomeno in molti paesi, cosa che invece vedo del tutto ignorata e diciamo asfaltata spesso da obiettivi di breve termine che hanno poco a che fare con una programmazione, non dico di lungo, ma di medio periodo. Quanto meno una questione così di fondo sul dove si vuole andare da questo punto di vista. Sì, esattamente. Credo che ci sia un secondo video che abbiamo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' un riassunto delle tante cose fatte in questi anni e adesso a che nuova avventura siete arrivati? Beh, diciamo adesso. L'officina chiaramente non... Cioè il senso anche del nome è di un luogo che non si ferma mai. Chiaramente un'officina che non continua a lavorare poi perde la sua stessa caratteristica. credo continuare soprattutto nel dare opportunità di incontro ma anche di lavoro. Io credo che soprattutto quando noi guardiamo all'Atenei come il Poli o anche all'università l'intento soprattutto di queste nuove iniziative è di dare opportunità a chi vuole di sviluppare idee. Una cosa che tengo a dire è che chiaramente essendo il socio dell'OGR una fondazione le OGR non si pongono un tema di dover creare profitto da quello che fanno. Sostenibilità sì, perché l'autofinanziamento nelle attività poste in essere è un tema secondo me molto rilevante nella creazione di valore. Quindi noi qualunque attività non dovremmo mai distruggere ricchezza. Quindi è chiaro che occorre porre in essere un mix di attività alcune delle quali hanno le caratteristiche per autosostenersi le altre le dobbiamo aiutare ma quelle che hanno un grande valore educativo confesso che le mostre non vengono fatte per pensare di ricavare risorse tanto è vero che le abbiamo rese anche gratuite ma hanno un valore educativo sul territorio molto rilevante quindi devono essere portate avanti così come i dialoghi diciamo il motivo di incontro su determinati temi. Noi stiamo lavorando sul tema dell'Art Technology anche molto con la Commissione Europea c'è un'iniziativa che forse non è molto nota che si chiama STARTS è un progetto di Science Technology Plus Arts che punta proprio sul fatto a livello europeo di mettere insieme varie teste vari talenti, varie discipline proprio per studiare questa dinamica. Le OGR sono uno dei punti di riferimento in Europa e per l'Italia diciamo siamo al secondo giro di diciamo call for application e questo per noi è un tema molto importante. Facciamo parte anche di European Pavilion che è un'iniziativa culturale promossa dalla fondazione European Culture Foundation che invece si trova nel Netherlands e che sostanzialmente anche qui avendo le OGR come punto di riferimento per l'Italia vuole mettere insieme un set di iniziative su questo tema qui. Come si vive così tanto in mezzo all'Europa? Perché OGR declina quasi tutte le sue attività in collaborazione e penso anche a molte cose artistiche che fate guardando ad altre entità culturali europee alle occasioni che hai appena citato e penso valga praticamente per tutte le vostre attività per cui insomma in anni di dibattito di quanto siamo in Europa di quanto siamo europei forse OGR anche su questo ha un punto di vista? Secondo me siamo molto in Europa lo sono forse più le teste più loro che non i paesi che nel dibattito politico spesso creano barriere che nella testa dei cittadini o perlomeno delle giovani generazioni che hanno la fortuna o la predisposizione a voler studiare a formarsi credo che obiettivamente siamo molti europei sono molti europei e beh si lavora diciamo con molta burocrazia burocrazia sicuramente però devo dire che non è che quando lavoriamo con le altre istituzioni nel paese questo sia un livello più basso quindi quindi ci stai dicendo che anche in Europa c'è la stessa burocrazia? beh c'è sì c'è c'è burocrazia in Europa però i miei anni a Bruxelles mi hanno temprato ecco se posso dire questo sì sì sicuramente soprattutto nella complessità che deriva poi dalla gestione di un numero di paesi così alto insomma siamo un continente faticoso lingue diverse quindi è molto complicato però io vedo un progresso in questo cioè progetti come Starts in passato non sarebbero stati realizzabili insomma c'è una volontà anche di dialogo molto forte e si va anche in questo vostro laboratorio di Art Technology mi pare si vada anche oltre l'Europa perché per esempio non ne so uno degli argomenti che abbiamo preparato è sul gaming e qui si guarda all'Oriente si prende un'altra cultura e forse è un settore che è stato considerato troppo superficiale in passato e a cui invece bisogna attribuire delle altre capacità allora sul gaming qua in particolare in questa parte d'Italia c'è molta competenza e quando dico competenza significa persone anche varie laureate anche al poli che fanno lavorano nel gaming hanno creato società start up il gaming significa soprattutto avere a che fare con diciamo coloro che realizzano la grafica che si occupano della poi della anche dell'elaborazione della creazione c'è anche molta creatività credo sia un esempio di art technology naturale il gaming certamente abbiamo superato inizialmente un po' di mi ricordo anche un po' di pregiudizio perché noi abbiamo cominciato a lavorare su queste tematiche prima che le OGR fossero ristrutturate quindi ovviamente utilizzando altri luoghi di incontro di sviluppo non è stato immediato molti confondono il gaming col gambling quindi quando si dice vogliamo investire sul gaming pensano all'attività di scommesse o di cose del genere in realtà oggi io ricordo che soprattutto negli Stati Uniti in particolare in California noi a Leogiero ospitiamo anche View Conference che diciamo è dedicata soprattutto a tutto quella che è la tematica del del digital nel arrivano nomi pazzeschi peraltro nomi pazzeschi molti molti premi Oscar sul digital qui a Torino ogni anno View Conference devo dire che oggi i budget che vengono investiti dalle grandi corporations sul gaming su singoli gaming spesso superano i budget di film elaborati e prodotti a Hollywood quindi in realtà questo dà un po' l'idea della dimensione e questo è anche comprensibile considerando che il time to market e quindi il momento da cui parte l'investimento al suo ritorno da un punto di vista di repayment temporale è spesso più breve rispetto a quello dei grandi movies quindi si capisce perché gli investitori però al di là di questo come dicevo prima a noi interessa soprattutto dare opportunità alle persone cioè ci occupiamo di questi temi perché pensiamo che siano bacini di talenti cioè riteniamo opportuno soprattutto come OGR e come fondazione che chi voglia lavorare in determinati ambiti o attraverso start up partecipare a uno dei 14 programmi le cui application ci tengo a dirlo sono sempre di carattere internazionale perché gli acceleratori sono nazionali e internazionali possa poter rimanere e trovare qui un'occasione di sviluppo e non necessariamente dover andare in altri paesi questo lo ritengo molto molto diciamo grave noi parliamo sempre di immigrazione poco di emigrazione di persone formate che ogni anno vanno fuori soprattutto perché può performarsi secondo me anche sano io anche ho lavorato studiato fuori diciamo anche abbondantemente però un conto è farlo per scelta un conto è doverlo fare perché tu hai un'idea e nessuno qua ti dà retta né dal punto di vista dello sviluppo o né dal punto di vista del link che si deve creare con il mondo degli investitori e quindi il gaming è anche una grande occasione io ricordo che molti delle persone che lavorano in questo settore trovavano prima diciamo più accoglienza anche in paesi molto limitrofi anche molto vicini diciamo un'oretta di macchina pur di andare oltre confini quando trovi chi è disposto a darti la possibilità di investimento chi ti dà una scrivania un tavolo per far vedere che cosa sai fare credo che chiaramente questo sia un elemento di grande opportunità chi magari anche ti dà retta quando hai meno di 30 anni che questo paese però penso stia imparando dobbiamo farlo dobbiamo farlo imparare anche dobbiamo farlo imparare avete fatto un videogioco anche abbiamo fatto un videogioco bene abbiamo fatti vari devo dire uno è relativo ad una delle mostre che è stata fatta con un artista adesso non mi ricordo il nome ma tutto fuoco brava che era Now Here il videogioco è trasformato diciamo nella sua opera d'arte e quello è stato forse il primo esperimento vero e proprio di art technology realizzato per le OGR all'interno delle OGR però ecco vedere anche la passione con cui poi varie competenze persone che lavorano in ambiti diversi si mettono insieme per realizzare qualcosa è sicuramente un tema di valore di valore aggiunto che poi tutto fuoco era anche l'artista con cui avete aperto per cui c'è tutto Patrick tutto fuoco c'è tutto un ritorno allora era un'opera molto concreta ci si passava addirittura dentro assolutamente un labirinto un labirinto e poi invece siamo arrivati a una cosa completamente ma posso fare un test chi di voi ha messo mai piede alle OGR vabbè abbiamo una buona media poi mi consolo no ma scherzo qui è facile giochiamo in casa però quasi in casa non proprio in casa in casa come città dico cioè qua dietro sarebbe certo parlavi prima abbiamo parlato di metaverso di art technology forse secondo me è bene anche definire in tutto questo quella che si chiama intelligenza artificiale che ruolo ha in questo momento non solo all'interno dell'OGR ma della società e magari staccare un po' la banalità ultimamente si fa un gran parlare di NFT di arte digitale e forse la si è coniugata molto a quanto vale a quanto si vende è diventata subito un'alternativa nel fare profitto perché prima tu parlavi di profit no profit e della sottile linea che passa in mezzo a queste due parole art technology arte digitale intelligenza artificiale in realtà ha tutta un'altra declinazione che non riguarda banalmente il mercato anche perché il mercato poi è capriccioso che sia per l'arte tangibile che per quella virtuale beh l'NFT un po' si sta anche sta anche modificandosi no nel senso che effettivamente sempre considerati un metodo di pagamento più che altro legato alla blockchain poi certamente in alcuni momenti è diventato un po' una forma spacciata per una forma d'arte però credo che adesso si stia ritornando un po' giustamente anche alla dimensione di quello che è per carità è una forma di regolamentazione ritengo sia molto utile anche qua per l'opportunità che questo tipo di approccio scientifico dà ad esempio molto utile contro le contraffazioni o la certezza dell'origine come per ogni altra cosa poi la blockchain è in grado di fare beh sull'intelligenza artificiale innanzitutto credo che avvicinandomi anche umilmente come OGR a capire anche le progettualità in particolare poi con fondazione Easy come per i big data molto spesso si capisce che quando si sente parlare di intelligenza artificiale non è intelligenza nel senso che in realtà è un fenomeno sicuramente di una serie di esecuzioni di algoritmi e comandi però lo sviluppo di una vera e propria intelligenza come la consideriamo noi è limitata certamente a fenomeni ancora molto ristretti e quindi quando si parla anche con semplicità dell'AI credo che in alcuni ambiti non sia effettivamente così come quando sentiamo parlare di big data per moltissimi approcci o soluzioni se poi si va a vedere meglio è un insieme di fogli Excel sicuramente molto validi ma che nulla hanno a vedere con i big data cioè in realtà li usavamo li usavo anch'io come finanza ma non usavo anche su sistemi molto complessi che spesso cresciavano ma devo dire neanche li chiamassi big data e devo dire che anche qui bisogna avere un approccio molto scientifico molto serio e certamente distinguere quello che attraverso i termini si vuole dire credo che l'intelligenza artificiale comunque sia effettivamente una frontiera fenomenale e anche la creazione di un centri di centri come quello che si svilupperà qui a Torino sull'intelligenza artificiale sebbene nel tempo modificata perché poi si verrà applicata soprattutto al settore dell'automotive quindi un po' limitativo rispetto ai progetti iniziali sicuramente rispetto ai progetti iniziali credo che sia possa essere utile a fare questo di nuovo nell'arte nell'arte technology alcuni fenomeni possono essere forme d'arte veramente nuove affascinanti che spingono diciamo anche gli artisti a sperimentare nuove frontiere e anche nuove modalità di azione questo lo vedo come una grandissima opportunità e anche devo dire come un'opportunità degli scienziati degli ingegneri in alcuni casi poi in realtà nei team abbiamo fisici e altri tipi ovviamente però di dialogare anche con un mondo che non è il loro linguaggio con gli artisti che è un mondo completamente opposto e in questo però c'è veramente una creazione di valore nuovo per questo al di là dello slogan o del termine art technology l'elemento importante è quello di mettere insieme due mondi che fino ad oggi non lo erano nell'OGR il grande vantaggio io ho girato molto durante la ristrutturazione ai vari luoghi in Europa e negli Stati Uniti credo che senza diciamo volerle magnificare a ogni costo ma l'opportunità dell'OGR è che sotto lo stesso tetto ci siano due diciamo competenze talenti molto diversi sia per formazione che per esperienza farle passare per quel transetto che unisce le due maniche lunghe è la scommessa che dobbiamo fare siccome questa cosa avviene in tempo reale giorno dopo giorno so che c'è una mostra in programma l'anno prossimo che l'anno prossimo si c'è una mostra molto interessante nel senso che in realtà continua sul dialogo soprattutto ecco perfect behaviors ed è una mostra che per la prima volta è molto dedicata alla comprensione dell'innovazione adesso ho parlato io prima quella di Arthur J che vi invito a vedere che in realtà è su temi diversi ma sempre molto legata all'art technology perché quella di J è relativa molto ai messaggi dell'inclusione del razzismo anche con una modalità ovviamente tutta sua nel suo caso sono messaggi tradizionali messaggi tradizionali ma usa molto anche il video è estremamente impattante c'è dietro molta tecnologia diciamo in quella quella sua realizzazione perfect behavior ci fa un po' vedere come ecco anche questo diciamo che è un po' una rappresentazione di una big data no? perché poi lì sotto ogni persona c'è una mole di dati gestita importante viaggiante in tempo reale ci fa un po' vedere appunto come l'innovazione quindi la tecnologia che poi è il primo fattore abilitante in questo momento dell'innovazione ci aiuti in qualche maniera attraverso l'arte ad essere compresa con forme totalmente diverse e tu hai detto prima sarebbe interessante sapere cosa ne pensano loro che con l'intelligenza artificiale con il metaverso con l'art technology hanno un rapporto più diretto magari non so se magari qualcuno ci aiuta a capirlo beh no magari capire anche non so se qui si vogliono ma insomma anche loro all'interno del poli hanno poi formazione diversa perché seguono strade diverse però insomma anche tra di loro ad esempio sul tema del metaverso sento opinioni molto diverse come è giusto come è giusto che sia però poi è molto interessante capire anche da loro quindi ma dalla vostra esperienza in realtà e dal fatto che poi ospitiate start up anche sullo spazio scambi dialogo tutto quanto si capisce se esiste uno scarto generazionale rispetto a questi argomenti un approccio completamente diverso rispetto a quello che possiamo avere noi banalmente tu lo studi tutti i giorni quindi forse un po' diverso però secondo me sicuramente viene visto in maniera meno da tabù cioè in realtà viene visto come una delle tante evoluzioni e quindi è molto interessante osservare l'approccio perché chiaramente c'è l'approccio di chi ha una formazione più umanistica che ha una talvolta una reazione più di quasi di spavento cioè nel dire vengono ad essere completamente rivoluzionati se non modificati quelli che sono i grandi assiomi della formazione dell'esperienza sociale e poi invece c'è una parte più razionale che invece lo vive come un fenomeno che può essere diciamo in qualche maniera gestito neanche con troppa difficoltà io questo vedo ma proprio in questo poi l'interesse nostro come OGR è anche a creare momenti di confronto certo è difficile dirlo ora però il fatto di trovarsi di fronte a un fenomeno che secondo me andrà comunque avanti ripeto dovrà essere gestito questo mi pare evidente è un po' rappresentato tutta la storia degli ultimi decenni per questo che dico che l'innovazione poi è il primo la tecnologia è il primo abilitatore dell'innovazione quindi in qualche maniera comunque nel momento in cui tecnologicamente è possibile fare una cosa l'esperienza ci dice che prima o poi quella cosa verrà fatta in quel modo lì però poi ecco sul metaverso forse è il caso se qualcuno vuole dirci che cosa ne pensa se qualcuno di loro vuole dirci che cosa ne pensa noi siamo felici di sentirlo anche solo l'approccio che ha senza avere delle particolari declinazioni se ci crede o no ad esempio non oh vedi devi fare pick up tu vedi c'è un arriva il microfono aspetta secondo me ora come ora è più un problema di hardware cioè nel senso noi ragazzi anche è difficile che abbiamo un visore per poter entrare nel meta attualmente vedi come sono pratici certo tu stai pensando se Bario non Bario dice no mi serve l'hardware è giusto quindi è una tecnologia facilmente raggiungibile però se pensi a questo tipo di tecnologia è qualcosa che ritieni solo un fattore temporale cioè nel momento in cui come i primi telefonini io ricordo diciamo se uno legge anche i report erano grossi così e costavano tipo sei stipendi di una persona media poi è chiaro che anche lì comunque se il tema diciamo per te più l'hardware vuol dire che per il software diciamo non pensi che effettivamente questo sia un problema ma quando più persone effettivamente inizieranno ad utilizzarla secondo me ci saranno tante altre che le seguiranno cioè si abbasserà sicuramente il costo dell'hardware è poi più facile che però devono esserne prodotti tanti altrimenti non ma a me ti incuriosisce di più sapere che cosa troverai lì dentro quando avrai l'hardware è una domanda che neanche ti poni attualmente non ho molti intensi cioè non sono molto curioso attualmente di parlo personalmente però non so se avessi effettivamente un visore per poterci entrare sicuramente lo farei grazie grazie se c'è qualcun altro che vuole aggiungere la sua curiosità al dibattito dietro di lei salve per me col metaverso c'è ancora un problema fondamentale che è quello della dispersione non a caso abbiamo visto che su The Central e su Sandbox ci sono pochi utenti unici attivi mentre al momento l'unico realmente funzionante è Robolots con un 75% di utenti attivi nella fascia 9-12 anni il problema ritengo personalmente di questa dispersione sia dovuto al fatto che le persone si avvicinano ma col metaverso cambia il rapporto tra l'utente è la piattaforma nel senso che diventa più complicato rispetto ai social creare contenuti e quindi l'utente una volta che fa l'esperienza tende ad annoiarsi perché non trova una nuova esperienza e quindi tendenzialmente passa da una piattaforma all'altra il problema in questo momento per me dipende da una sorta di mediazione o di società intermedia che dovrebbe incominciare a preparare questi contenuti creativi per le imprese e portare questi contenuti all'interno del metaverso in modo da rivitalizzare e invitare costantemente gli utenti a tornare perché di fatto Roblox funziona solo perché c'è un mercato funzionante di gamification questo questo però è interessante che siamo già alla noia del metaverso è bravo perché questo è già la noia però diciamo è interessante vedere che l'approccio è più dal punto di vista realizzativo e quindi sul time che ancora non c'è sulle soluzioni che ancora devono essere sviluppate la cosa interessante diciamo è capire se però ponendovi ad esempio nei panni di un investitore è qualcosa nel quale nella quale distinto vi sentite di credere per il futuro oppure considerate mentalmente un flop o qualcosa che può diciamo avere un fuoco di paglia quindi in realtà una grande una grande opera di marketing attuale ma con poca possibilità di sviluppo lo so che non è facile qui c'è un altro intervento mentre arriva al microfono soltanto che forse però visto così Massimo fa persino un po' meno paura perché sì sì ma giustamente qui vedi la differenza di approccio maggiormente razionale e dice vabbè su dei problemi pratici non funziona prego un commento sul metaverso ma poi soprattutto una domanda a lei in tema di social impact che insomma siamo venuti per ascoltarla commento sul metaverso è che in realtà la vera rivoluzione non è il metaverso ma il passaggio da quello che si chiama web 2 a web 3 per cui posto che ancora non c'è stata una vera transizione non entro nei particolari perché immagino che tutti sappiano di che cosa stia parlando ma probabilmente proprio perché gli attuali investimenti sul metaverso sono stati fatti con una logica da web 2 è probabile che il mercato abbia capito visto che già intravede gli aspetti positivi del web 3 che quel tipo di finanziamento e quell'uso del metaverso con vecchie logiche non funziona qui la domanda però perché mi interessa di web 3 e mi interessa soprattutto di blockchain for good e quindi di smart contract DAO eccetera e vorrei capire se avete esperienze dal punto proprio per la vostra mission nella vostra visione interessante di fondazione se utilizzate smart contract e se come utilizzate blockchain come se utilizzate blockchain for good allora la domanda è per i nostri contratti come OGR o fondazione no non li utilizziamo abbiamo vari soggetti che all'interno stanno ancora dialogando sulla applicazione anche di smart contract ma soprattutto anche di un approccio diverso nell'utilizzo soprattutto nelle transazioni finanziarie anche il metaverse for good che abbiamo lanciato con un istituto bancario diciamo che ha una parte che si occupa molto di innovation è proprio mirata a capire questo l'utilizzo di soluzioni come smart contract che secondo me saranno molto utili soprattutto perché eviteranno in vari ambiti anche fenomeni di frode che in questo momento stanno crescendo in maniera esponenziale no lo stesso riferimento suo anche al web 2 diciamo oggi molte istituzioni stanno vivendo finanziarie c'è il tema delle frodi crescenti sempre più raffinate smart contract l'utilizzo della blockchain per alcuni ambiti molto pratici legal transazioni finanziarie credo avrà un grande impatto nel ridurre questi fenomeni oggi abbiamo un tema anche che non ci sono le competenze per poter lavorare con questi strumenti quindi uno dei grandi dibattiti che facciamo è come formare le persone soprattutto giovani neolaureate per all'interno delle aziende sviluppare questo tipo di strumenti ma anche applicarli poi alla però abbiamo una serie di iniziative legate proprio al mondo della blockchain e anche dal punto di vista diciamo delle associazioni nazionali che si occupano di questo quindi volentieri magari possiamo parlarne no scusi aggiungo appunto che il tema dello smart contract e della blockchain for good proprio per la vostro lavoro territoriale ve lo segnalo non tanto rispetto ai wallet finanziari nft ma in quanto tecnologia civica quindi è molto importante credo che la fondazione si apra a questi temi perché attualmente alcuni sistemi di wallet in blockchain potranno favorire la cittadinanza attiva e una nuova idea di democrazia che proprio questo tipo di tecnologia permette visto la vostra mission appunto vi segnalo cioè speravo che voi già foste in questo ramo però appunto tra l'altro vi dico che a Torino ci sono le università italiane che maggiormente si occupano di tecnologie civiche hanno competenze e stanno formando i nostri ragazzi su questo quindi siete proprio avete il milieu culturale adatto per sviluppare questo grazie grazie molte buon pomeriggio per quanto riguarda i visori io l'ho sempre visti uniti ai videogiochi come qualcosa che ampliava l'esperienza invece giusto l'altro giorno ho visto la recensione dell'ultimo visore di meta che dopo aver acquistato Oculus si è impegnato tantissimo e ho visto come l'hardware come diceva il ragazzo ha raggiunto secondo me un punto poi questa è ovviamente la punta di diamante ha raggiunto un punto tale da poter davvero sostituire in certi ambiti soprattutto lavorativi totalmente l'esperienza io ho visto appunto solo questa recensione però si poteva benissimo fare una conferenza da casa che non è soltanto usando il computer come in dad e quindi secondo me sì nei prossimi cinque anni magari dieci avrà un successo incredibile poi ovviamente più c'è hardware meno costa quindi sono convinto che sicuramente nell'ambito lavorativo ci sarà una grande diffusione no questo è molto vero anzi grazie per questo intervento perché in realtà uno dei temi più rilevanti è quando si parla con gli operatori che in qualche maniera si pongono come realizzatori del metaverse vedendo anche quante corporation grandi nella moda o anche finanziarie si sono affrettate a comprare spazi leggiamo virtuali terreni negozi il tema è proprio questo cioè chi narra diciamo esprime un concetto del metaverse vuole proprio dire questo al di là del gaming a un certo punto rappresenta una realtà nella quale è possibile fare un'esperienza di acquisto di riunione di teatro di evento sportivo stando a casa propria anche da soli ma vivendo sensazioni attraverso un hardware sviluppato come se fosse effettivamente presente in quel luogo è da qui che poi nasce un dibattito di carattere anche sociologico più ampio che pone alcuni interrogativi se questa direzione in qualche maniera non solo sia compatibile con quella che è la natura umana ma che modello di società porta credo che questo sia un tema effettivamente quello che le ha toccato che poi è il fulcro dell'opinione però ho apprezzato molto la praticità che è fondamentale nel dire che cosa oggi rappresenta la barriera quindi è inutile parlarne se poi ancora al visore non c'è come ci ricordava lui c'è un tema di piattaforme di hardware o addirittura un tema che stiamo già parlando di cose obsolete rispetto a dove sta andando in realtà il settore una domanda esiste anche un tema sostenibilità legato al fatto di poter vivere un'esperienza un lavoro un momento a distanza e davvero cioè non giustamente come lui ha sottolineato non in dad che è una parola che non ci è proprio piaciuta e che non ha sicuramente funzionato questo penso che lo si possa dire quindi intanto il metaverso non è la dad cioè nel senso che non ci assomiglia proprio è un salto quantico come diceva lei assolutamente e se poi esiste questo momento in cui forse non dovremmo prendere 12.000 aerei e questa cosa può anche avere un senso pratico per quanto si parli anche del fatto l'abbiamo visto molto spesso con le criptovalute il parlare del cosiddetto mining effettivamente ha anche un impatto ambientale c'è stata molta attenzione su questo però devo dire che le attività fisiche che noi poniamo in essere sono molto più impattanti l'analisi anche su quello che è l'impact ci porta a dire ma l'abbiamo visto durante la pandemia cioè abbiamo avuto i fiumi che sono tornati trasparenti e i mari pure probabilmente l'aria delle città era migliori questo ci dice molto per cui credo che per quanto impattante sia la tecnologia la riduzione di alcuni fenomeni di massa che invece hanno un impatto in termini di spostamento e anche di presenze fisiche crei sicuramente un impatto molto maggiore quindi da questo punto di vista credo che la tecnologia possa rappresentare una frontiera positiva è un tema di velocità anche a questo punto perché i nostri amici diciamo della data science ponendo insieme varie questioni la velocità con cui viaggia il climate change la velocità con cui sapremo implementare alcune soluzioni che riducono questo tipo di impatto mi sembra che a questo punto sia fondamentale direi che in assenza di altre domande possiamo dichiararci soddisfatti ringraziamo grazie a voi grazie a voi grazie a voi ovviamente per l'attenzione e al Politecnico venite ai nostri programmi è tutto sul sito grazie